L'AMAP ha annullato la gara di circa 43 milioni di euro per rinnovare la rete idrica e il sistema di tubazione della distribuzione dell'acqua dei quartieri a destra del fiume Oreto, Sette Cannoli e Romagnolo, dopo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha ammesso al finanziamento questa opera strategica. Si tratta di un progetto che avrebbe risolto il grave disagio di tantissimi palermitani residenti nella seconda circoscrizione che ancora oggi ricevono l'erogazione dell'acqua presso la loro abitazione solo a giorni alterni. Il progetto, finanziato con fondi PNRR, fa parte degli interventi in tutta Italia per la riduzione di perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti. L'AMAP aveva pubblicato il bando il 28 marzo scorso, con termine ultimo per la presentazione delle istanze fissato al 30 aprile. Ma lo scorso, 6 maggio, il MIT ha pubblicato la gravutatoria definitiva degli interventi dalla quale si evince che l'opera palermitana non è stata ammessa. Grazie. 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 Grazie.